Adesso proviamo a fare un'accelerazione con la moto che dicono che meno di due secondi e mezzo fa 0-100 Sono in modalità standard a 40 all'ora Proviamo a vedere se effettivamente è così entusiasmante Quindi 3, 2, 1 Porca p***a Non ci sono tante parole per descrivere Però in una manciata di secondi era 150 Va bene Direi che possiamo incominciare con il video e ve la inizio a raccontare con Michele Ciao benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo insieme io e Michele Michele ti ho portato una moto Perché sei un motociclista esperto Michele proviene da un BMW come si chiama Che ha un nome strano La S1000RR Ok vabbè più o meno Tutte quelle sigle lì Moto da 193 cavalli E oggi invece te ne ho portato una che è un po' meno potente Ma che si fa sentire che è una brutta bestia Ma non perché sia brutta Ma che fa letteralmente paura È spaventosa Michele Qual è il tuo feedback? Ieri te l'ho lasciata A mezza giornata Vieni che la raccontiamo qua Stavamo a vedere questa Ecco Questa è la energica ego Ed è stupenda È veramente bella come moto A me piace molto Però Michele voglio sentire il tuo feedback Visto che sei un motociclista di veramente lunghissima data E appunto hai tante esperienze anche con moto molto sportive Ho avuto CBR 600 CBR 1000 L'ultima è la BMW S1000RR È una moto molto potente Con 193 cavalli E devo dire che quando ho provato questa Pensavo di trovarmi di fronte ad una moto Cioè Ampiamente sotto quella che avevo guidato prima Cioè pensavo Ma sì Tanto cosa vuoi che vada Cosa vuoi che faccia E invece La cosa più impressionante L'impatto più forte Ce l'ho avuto proprio dal motore Il motore è spaventoso È spaventoso perché È infinito Cioè non ha cali di coppia Non ha cali di potenza Cioè Tu Tu apri a qualsiasi velocità Lei Sparata in avanti Cioè È veramente impressionante Il motore è veramente impressionante La coppia È esagerata È esagerata È una moto Con delle caratteristiche tecniche Veramente di primo livello Cioè Freni Brembo Cioè Sospensioni Tutto quanto All'altezza di una moto Di altissimo livello Cioè qui non ci sono compromessi Al ribasso E Devo dire che Si guida molto bene Molto piacevole Perché Non hai Non hai cambio Non hai frizione Anche i freni Li tocchi pochissimo Perché Puoi regolare La rigenerazione E quindi Ti piace Che Che rigeneri di più Quindi hai più freno motore Io veramente Ieri sono andato Quasi Sono arrivato quasi Da medicina Al passo della raticosa E Avrò toccato i freni Due volte Infatti qua Voglio fare Un appunto Si vede Che è una moto Che è nata Progettata per essere elettrica A differenza magari di altre moto Magari proprio anche fuori Dell'Unione Europea Insomma Le cinesate Come si vuol dire Perché si può regolare Per esempio Caricabatteria Sina c che dc Per ogni ampere Piuttosto che con scatti di 5 In dc Piuttosto che la rigenerazione Su quattro livelli E la massima Veramente Consente di non frenare mai Piuttosto che possiamo andare A vedere i parametri di coppia Piuttosto che di potenza istantanea Di quanto va a rigenerare Sia in termini di potenza Che di coppia Ed è veramente pensata Molto molto bene E pensata per essere elettrica In più la batteria Questa qui Che da 21,5 kilowattora Permette veramente Autonomie Estremamente importanti Perché come Come ti dicevo Io da praticamente Pistoia a Bologna Non si potrebbe dire Però diciamo A velocità Codice E Comunque Sono arrivato a Bologna Con un 40% Di residua Consideriamo che non è estate Consideriamo che c'è il dislivello Consideriamo La velocità Non propriamente Da codice Ma di cosa stiamo parlando No ma anch'io Ieri L'ho caricata al massimo Ma non serviva Cioè Perché Perché Non so Non so Bene la misura Per fare quel giro lì Allora ho detto La carico al massimo Poi vedo con quanto Torno a casa Ma avevo più del 60% Quando sono tornato a casa Quindi Cioè A voglia L'autonomia Non è un problema Di questa moto Anzi Con questo proprio Permette la scordi Il problema dell'autonomia Poi La prende per fare Dei viaggi lunghi Tutto quanto Così Quello È un altro discorso Però Per il giro domenicale Al passo Fare due pieghe Divertirsi un po' Questa è Proprio Non hai Il pensiero L'ansia Dell'autonomia È stupenda È veramente Molto 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 Esteticamente È veramente Molto appagante E fa più rumore Di quelle che fanno rumore Perché si girano tutti Ma non in senso Proprio che è rumorosa Non è silenziosa di certo Ma fa proprio scalpore E ci credo Io ieri Quando sono partito Per prendersi un attimo La misura Diciamo Al peso L'ergonomia Queste cose qua Ho fatto un giro Prima In paese E io ti giuro Che si sono girati Tutti Tutti Ma Guarda Io Poi Quelle persone Mi sono anche fermato Un attimo Al bar A fare due chiacchiere Con un amico Motociclista Tutti hanno Apprezzato La moto Per come è fatta Cioè La qualità Delle plastiche Tutto quanto Così Cioè Nessuno ha fatto Un appunto A livello qualitativo A livello Ah però Guarda Qui hanno messo No no Guarda Che proprio Anche chi ha Ducati E parlo di Ducati Panigale Comunque Io ho fatto vedere La moto Senza che io Gli avessi detto Niente Della moto Si è avvicinato Con estrema curiosità E ha notato Subito Il livello Di componentistica Ricordo che Questa che ho In prova È la base E Dalle sospensioni Regolabili Il mono Posteriore Veramente Enorme Piuttosto che I freni Brembo È qualcosa Di veramente Di fascia Molto Molto Alta Non va Compromissi Magari Come fanno Su altre moto Però Consideriamo Sempre che È la base Questa Perché Si possono Scegliere Cerchi Riforgiati In alluminio Piuttosto Che in carbonio Piuttosto che Le olis Davanti e dietro Già Questa Come dice un mio amico È un bombardone Questo è veramente Un bombardone Cioè Questa veramente Quando apri Ti strappa le braccia Questa ti strappa Le braccia Ecco Io infatti Una cosa Una cosa Che devo dire Ieri L'ho messa in sport Quando gli ho fatto Provare la moto Michele Così per curiosità Volevo provarla Perché in realtà Già in standard È più che sufficiente Cioè in standard Tanto per darvi Per farvi un paragone Trovandomi Ad fare un'accelerazione Con Tesla Model 3 La Tesla Model 3 Sembra una panda metano In confronto Cioè È qualcosa di Proprio Qua siamo a 0-100 Sotto i due secondi e mezzo E col controllo di trazione Regolabile su 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 sei livelli Comunque Tende ancora A slittare la ruota Dalla potenza Cioè Molto ben gestibile Per l'amore del cielo Però È veramente Tanta tanta roba Forse anche In esubero Ce n'è C'è come avere Due moto 1000 Messe insieme O una moto 2000 a benzina Da 250 cavalli Perché ti strappa Le braccia Proprio Contate che La mia BMW S1000 Aveva Mi sembra 113 newton metro Di coppia E stiamo parlando Praticamente alla metà Esatto Praticamente alla metà Stiamo parlando Di un motore sportivo Ad altissimo livello Cioè La BMW aveva Cornetti Di aspirazione Geometria variabile Le farfalle Sullo scarico Per migliorare la coppia Ai bassi regimi Cioè Ero un motore Molto complesso Dovevi tenerlo Molto su di giri Per avere prestazioni Vagamente simili Sempre Sempre Oltre a 10.000 Questa qui invece Il bello Il bello È che tu non devi pensare A regime La marcia Così Tu apri E chiudi il gas Qua sì 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 Alla velocità Qua sì 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 Alla curva Non devi Cioè Ho notato che per assurdo Più si va veloci Più si va Per esempio Siamo a 100 E apriamo gas Prende molto più forte Che dalla partenza Da fermo E più si va veloci Più prende in maniera Brutale Proprio Sicuramente da fermo È molto limitata Perché se no Questa è di capotti Sì 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 Beh infatti Quello che volevo Finire di dire In sport Sta moto È qualcosa che Si prova paura Ma non In senso Per dire Che è veramente potente Proprio si prova paura Perché è Troppo 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 Per chi come me Non è abituato A questa tipologia di moto È veramente qualcosa di Forse qualcuno Che guida dei jet Va bene Perché se no Una persona normale È stata una gran bella sorpresa Però C'è da dire Michele Che appunto Persone come me Che non sono abituate A questa tipologia di moto Devo dire Che è comunque Sempre molto facile A gestire Ma sì perché I motori sportivi Li puoi utilizzare Cioè rendono al meglio Rendono al massimo Tra il regime Di coppia massima E il regime Di potenza massima Quindi tu I motori più spinti Hanno sempre Il regime Di coppia massima Molto in alto Sono i motori Più turistici Che hanno un'ampio Un'ampia gamma Di regimi Di utilizzo Ma quelli spinti Hanno Qualche migliaio Di giri Nei quali tu Li puoi Sarebbe L'utilizzo In pista Diciamo Sotto quel regime Lì Ecco che Il motore È più fiacco Quando fai Il giro Domenicale Al passo Così Non è che Stai sempre A 10.000 giri Tra 10.000 e 13.000 giri 14.000 Quelli che fanno Le motore Sì Ma poi Ma è proprio difficile Perché tu hai Il traffico Hai curve Di raggio diverso Cioè non è che Arrivi sempre in curva In staccata Pinzato Con il motore su Metti una marcia bassa Cioè No Non giri così Questa qui È molto più Godevole da girare Perché tu Non hai tutti questi pensieri A qualsiasi regime Tu apri E questa Ti spara fuori Dalle curve In una maniera Che Cioè Veramente Cioè ti devi Tenere stretto Ed è Molto più semplice Guidare una moto così E andare forte Rispetto ad una termica Che devi stare attento Alla marcia Devi stare attento Al regime Devi stare attento E qui e là È molto più Impegnativa Una termica Come Come sforzo Per la guida Poi questa L'unica pecca Ecco Il peso Che si sente Però Ti dico Basta farci l'abitudine Io poi vengo da moto Le sportive Che sono tra le più leggere Quindi io Guidavo moto Da 200 kg Più o meno 200-205 kg E quindi Avverto il peso maggiore Ma chi viene Da moto Per dire Ho fatto salire sopra Un mio amico L'ha un po' scossata Lui ha una moto Da 230 kg Fa più o meno Come la mia Ecco Quindi Non è che Chi viene da moto Più pesanti Ecco che avverte Meno questa differenza Però Ecco Michele Quello che io Vorrei anche Specificare È che Visto che ci ho fatto Diverse centinaia Di chilometri È proprio il fatto Che bisogna Impararla a guidare Perché all'inizio Senti proprio il peso Ma perché È diversa Cioè Non è una moto Endotermica È una moto elettrica Però Una volta che noi Ci abbiamo fatto L'abitudine Cioè abbiamo capito Come si guida Perché è fondamentalmente Proprio diversa Cambia tutto Perché ti dico Io Ci sono stato Anche in mezzo Al traffico E devo dire Comunque riesci a fare Lo slalom in mezzo Alle macchine Che non è Diciamo la tipologia Proprio come moto Migliore Però Io quello che consiglio È farci Due, tre Quattrocento chilometri Non tanto Perché Per provare L'autonomia Roba varia Perché comunque Emerge Il più Il più Sì È proprio quello Perché il peso Noi ce l'abbiamo qua Qua davanti Questa zona qua Esattamente Dove c'è la batteria Abbiamo un motore Situato Dietro Comunque tutto Nella zona Molto centrale È più bassa Rispetto all'endotermico Sì, più basso Sì, più basso E però Logicamente la batteria Si fa sentire ancora Però Se ce l'ho fatta io A me piacciono Gli scooter Sostanzialmente Perché Voglio un mezzo Prattico Leggero Che può fare Un po' di tutto Però qui Ho ritrovato Un po' queste caratteristiche Perché È facile Intuitivo Anche per chi Non ha mai guidato Come me Una tipologia di moto Del genere Non so Se con la tua BMW Magari Sarebbe stato Altrettanto facile No, no, no Perché questo C'è un motore Che ti tira fuori Dal traffico Da quello che è Il traffico cittadino A bassa velocità A quelle che sono Le situazioni A più alta velocità A qualsiasi regime A qualsiasi velocità Tu apri E lui Risponde In una maniera Veramente Brutale Ma non brutale Che non lo controlli Forte Imponente Quindi tu hai sempre Il controllo Hai sempre Tutta la coppia Che vorresti Hai sempre Cioè È veramente Fantastico Mi dici Tre vantaggi E A parte il discorso Peso Sei trovato Qualche altro Caratteristica Magari Che ti è piaciuta Di me Allora Io L'unica cosa L'unico Ma è un limite Tecnologico Non è Non è un difetto Della moto Cioè È Il peso Maggiore Rispetto Alle moto Che ho guidato Prima Tutto lì Però Ci fai l'abitudine Non è un problema Ma tutto il resto Io ho visto solo Dei vantaggi E ho visto solo Una grandissima Facilità di guida Ma enorme Proprio Dovuta Alla coppia Del motore Michele Rispetto Alla BMW Che hai avuto Fino a poco fa E questa qui Faresti cambio La compreresti Adesso Adesso Mi metti In difficoltà Cioè Allora Allora Io Lasciamo stare Il costo Lasciamo stare Il costo Che comunque Che comunque Sono lì Cioè Io mi ricordo La BMW Era sui 19 Questa Questa quant'è Dipende dalle versioni Però si parte Dai 17 in su Dai 17 in su Cioè Comunque Si parla di prezzi importanti Non è che si parla Quindi Io È chiaro che Mi piacerebbe Provarla Di più Anche in pista Magari Perché Con la BMW Andavo anche in pista Quindi Però Ti dico Io sono rimasto Molto Molto Sorpreso Cioè la prima volta Che ho aperto il gas Ho detto Cavolo Ma ne ha Poi l'ho riaperto Ho detto Oh ma ne ha un sacco Dopo Dopo è stato Un piacere Tra le curve E tutto quanto Veramente Io Io consiglio Di provare Cioè prima di dire Elettrico no Elettrico sì Mi piace Non mi piace Provatela Quindi Io vi consiglio Di noleggiarla Se possibile Se avete La possibilità Noleggiarla Provarla E poi dopo Magari Ne parliamo Magari In una puntata Con altri Due o tre Motociclisti Parlarne Perché Secondo me È veramente Un gran mezzo È un gran mezzo Amici Penso che Vi abbiamo fatto Una panoramica Abbastanza completa Logicamente Questa Non vuole essere Una recensione Di Particolari tecnici Magari riguardo Alla componentistica Come magari Si possono trovare Su altri blog Ma più che altro Su quelle che sono Le sensazioni Diciamo Di un primo contatto Perché seguiranno Sicuramente Molti molti Altri video Sulle moto E ho qualche sorpresa Per te Michele Ottimo Quindi Sarà Il primo Di tanti video Comunque amici Rimanete Sintonizzati Qua sul canale Se volete Noleggiare Energica Piuttosto che Anche Zero Motorcycle A brevissimo A Bologna Ci sarà La possibilità E rimanete Sintonizzati Qua sul canale Perché Vi aggiornerò In merito Anche a questo Perché ci sarà Una nuova Concessionaria Elettrica Vediamo E quindi Non spoilerai Ciao a tutti Ciao Ciao ragazzi Ciao